Oggi il Museo Navale è una piccola per così dire anteprima della Sala delle Polene che si spera sia pronta per la prossima primavera. Ci sono 28 pezzi, alcuni molto particolari, anche con delle storie davvero particolari. Sì, la Sala delle Polene è ancora in corso d'opera, nel senso che i soldi sono del cantiere San Lorenzo, che ha sponsorizzato l'attività e verrà realizzata nei prossimi mesi. Sì, speriamo di riaprire, l'obiettivo è quello di riaprire il pre San Giuseppe, ma cominciamo ad essere un po' stretti, ma sicuramente la primavera verrà riaperta. Ci sarà l'installazione di queste 28 polene, di cui quella che vedete alle mie spalle è l'Atalanta, che ha questa leggenda che le corre dietro, e le 28 polene che hanno la particolarità di aver fatto molte di loro la campagna dei Mille, l'impresa dei Mille, di aver fatto di sé essersi combattute tra di loro nella battaglia di Lissa, e che vivranno insieme in questo spazio dedicato all'interno del museo. Hanno combattuto, di fatto anche tra di loro, ci sono anche delle polene di origine austriaca? Sì, ci sono alcune polene che sono di origine austriaca, e hanno combattuto contro le polene italiane nella battaglia di Lissa, nella guerra di indipendenza. È una cosa simpatica che stiamo insieme adesso in pace. C'è anche la principessa Sissi. C'è anche la principessa Sissi, che è una polena delicatissima, perché c'è tutto un ricamo, un lavoro particolare nel corsetto, nella capigliatura, veramente bella, bella, bella.